Ho partecipato ai mondiali junior, miglior risultato, un quarto posto. È già comunque a livello professionale, nel senso che ci sono i migliori giovani al mondo e si combatte tre giovani per divertirsi e per dimostrare quanto vale in quel momento. Quindi è sicuramente un'occasione di spicco per poi passare alle gare superiori.